Di questa protesta? Innanzitutto la protesta principale è il progetto Assiliari. Il progetto Assiliari, così com'è, anche se ci sono forze politiche che dicono che non va bene, non può rimanere questo. Il progetto Assiliari, così com'è, è devastante e non può essere modificato. Deve essere cancellato e rifatto totalmente, con l'aiuto e la partecipazione dei cittadini interessati e delle frazioni interessate. Altro punto, quello della bretellina, chiamiamola così, qui su Capannori. Certo, la bretellina di Capannori è un altro obrobrio che questa amministrazione ha voluto portare avanti. Non fa parte di nessuno strumento urbanistico, che gli strumenti urbanistici del Comune sono l'unica, gli unici veri strumenti che devono servire per pianificare il territorio. È stata messa dentro il raddoppio ferroviario, ma non serve il raddoppio ferroviario. Questo è quanto.